Gli studenti del Manin di Cremona si sono messi in gioco anche quest'anno per celebrare la cultura ellenica durante la Notte dei Licei, una serata in cui ex studenti e genitori hanno potuto ammirare il lavoro dei ragazzi, i quali hanno allestito una mostra, creato un video storico e portato in scena Eros et Thanatos, Amore e Morte. I professori, soddisfatti ed emozionati del lavoro dei loro ragazzi, non mancheranno di riproporre l'iniziativa il prossimo anno, coinvolgendo quanti più studenti e trasmettendo la passione per i grandi classici. Innanzitutto è un evento istituzionale perché è stato voluto dal Ministero dell'Istruzione sul suggerimento del professor Schembra di un liceo classico siciliano. Noi aderiamo davvero da sempre, il Manin aderisce da sempre a questa iniziativa e è un momento in cui davvero la scuola si apre alla comunità del territorio attraverso diverse iniziative. Questa manifestazione, che ormai è giunta al decimo anno di vita, è una manifestazione nazionale che fu progettata da un docente siciliano, Rocco Schembra, e che coinvolge più di 400 licei classici in tutta Italia. Qual è lo scopo di questa manifestazione? La promozione della cultura classica, del suo eterno valore, è come si trasmette attraverso gli studi che si effettuano in un liceo classico. Abbiamo appunto cercato di realizzare una sorta di incontro che si concentra sulla comunicazione dei classici, cioè su come oggi possiamo comunicare il mito, comunque ciò che la tradizione classica ci ha lasciato. Certamente Ulisse è uno dei personaggi più importanti della nostra mitologia. Oggi abbiamo potuto riscoprire grazie alla mostra delle tavole originali che abbiamo fatto al Museo archeologico. Trovare un eco di questa iniziativa qui al liceo Manin mi rende davvero molto felice e molto contento. Sono contento che anche gli studenti di questo istituto possano conoscere quest'opera, che tra l'altro è ritornata in una nuova veste con un testo aggiornato al linguaggio dei nostri tempi. Grazie.